ragazzi bella ragazzi buonasera a tutti oggi non ho fatto il video delle 5 perché volevo risparmiarmelo per il post partita di questa diciamo di questo trofeo in onore di silvio berlusconi il primo trofeo silvio berlusconi insomma una partita secondo me ancora una squadra ancora da decifrare nel senso comunque teniamo conto del fatto che il monza il monza è più avanti con la preparazione perché il monza essendo considerato una squadra medio piccola nonostante ha fatto bene molto l'anno scorso ha una preparazione molto più avanzata del milan il milan secondo me ancora un po un po sottotono nonostante gli otto acquisti non mi piace molto quello che quello che sto vedendo però però tante note positive di questo bisogna parlarne comunque renders gran bel giocatore pulisic altrettanto love to chic a chi diceva che è uno scarpone rimangiatevi tutto e fate silenzio perché love to chic è un signor giocatore quindi silenzio perché veramente sia giocatore soprattutto quando quando gioca lì davanti quando gioca più avanzate avanti avanzato love to chic con la sua prestanza fisica diventa secondo me quasi devastante perché ha fatto diverse alzioni a gol molto molto carine molto interessanti molto importanti leao è tornato per adesso ad essere il solito indisponente ha fatto una partita secondo me molto molto negativa ha tirato delle svircole delle ciofeche terribili girù ormai non ne parlo neanche più di giuro ragazzi girù ho contato le volte che si è fatto anticipare e ha superato le 15 le 18 volte che si è fatto anticipare 15 18 volte che si è fatto anticipare non può trascinare la carretta per un anno giro non può essere quello che trascinerà la carretta per un anno è impossibile non può succedere perché faremo a questo punto succederà che faremo un sacco di lavoro sulle fasce un sacco di lavoro di spinta e poi arriveremo lì sempre essere inconcludenti perché non c'è un finalizzatore vero e mi spiace dirlo per chi è stimatore di girù ma ormai è un palo da luce ormai è un palo da luce c'è bisogno di un supporto c'è bisogno di un supporto di un ragazzo giovane fresco e spero che l'abbiano capito e spero che facciano questa cosa perché ci vuole davvero ci vuole veramente veramente un giocatore un giocatore un giocatore diverso e poi c'è Krunic e poi c'è Krunic che rimane in campo 90 minuti che che diventa addirittura capitano che però non tira rigore ovvio e mica può tirare rigore mica può tirare rigore non c'ha il piede cosa tira rimane in campo 90 minuti fa veramente una partita pessima nessuna partita di legna perché l'ho visto fare ha toccato il primo pallone forse dopo mezz'ora qualcosa del genere sbaglia due trazioni che concede il contropiede agli avversari però rimane in campo 90 minuti però rimane in campo 90 minuti rimane diventa capitano e questa cosa veramente mi infastidisce mi infastidisce opinione mia non posso vedere Krunic capitano non ce la faccio ragazzi mi spiace e mi infastidisce vedere che il Milan e Pioli vogliono puntare su questo calciatore ma adesso parla sempre di lui perché ho detto che anche gli altri hanno fatto male adesso parliamo anche di quelli di nuovo entrati però però non può essere il fulcro il perno del centrocampo ed è l'impressione che sto avendo invece ve l'avevo già detto che Krunic sarebbe stato un titolatissimo di Pioli questa ma è spaventa ragazzi questa spaventa le alternative poi entrano in campo ovviamente Pioli come sempre pasta e fasuli cambi li fa al settantottesimo il Monza intanto al sessantesimo ha già fatto cinque cambi Pioli invece deve aspettare sempre a lunga evidentemente perché non si fida ai nuovi arrivati non ritiene essere pronti però non fa niente entrano in campo Ciucu Ciucu Musa Colombo Colombo ha fatto molto bene Bartesaghi ha fatto benissimo Bartesaghi secondo me potrebbe veramente essere il sostituto naturale di Teo Hernandez e lo sa fare anche bene ha fatto delle belle azioncine veramente bravo Colombo bravo anche lui Ciucu Ciucu e Ocaforo un po' timidi Ocafora da subito ci mette l'impegno fa vedere che vuole fare ma secondo me strafa un pochino ma c'è 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 presente Musa completamente assente non io ho visto toccare un pallone poi magari mi sono sbagliato io però non l'ho visto e Ciucu Enze fa due tre sgalopatine sulla fascia ma ci vuole ancora un po' allora non si può dire niente ci vuole tempo per farle entrare insomma una partita che vinciamo ai rigori finalmente vinciamo una michevole estiva vinciamo questa partita in onore di Silvio Berlusconi portiamo a casa questa coppa che ha solo un significato affettivo non ha nessun altro significato però intanto vinciamo vinciamo il trofeo Silvio il primo Toffreo Silvio Berlusconi se lo giudica a Milan ai rigori per un errore commesso non mi ricordo il nome ed è comunque dal giocatore avversario che prende una traversa e quindi il Milan si aggiudica questo trofeo trofeo insomma questa è la partita ci lascia come indice tanto lavoro ancora da fare tanto lavoro ancora da fare ma soprattutto da parte di Pioli Pioli deve fare tanto lavoro deve capire cosa come deve impostare questa squadra perché perché sinceramente sinceramente avere avere cronici trovati al centrocampo ragazzi veramente lui fa lui fa il passaggino ma non fa niente sbaglia tanto io non lo so non lo so come andremo a finire però spero che quelli nuovi ingarrino presto si trovino presto il Musa eccetera eccetera il Renders tutti quanti il Renders fantastico speriamo che ingrano presto perché comunque ci vuole un bel centrocampo lì manca qualcosa ragazzi manca l'attaccante manca il difensore centrale forte e forse anche un altro centrocampista forse anche un altro centrocampista però intanto dai stasera la portiamo a casa tutto sommato ci sono state tante note positive e qualcuna negativa però il Milan si sta avviando verso la prima di campionato e spero che arriverà al massimo della forma e della motivazione perché questo è importantissimo fatemi sapere cosa ne pensate intanto ragazzi auguro buon proseguimento di serata come sempre forza Milano ci sentiamo domani e adieu